Sono stati 5 minuti di paura quelli vissuti stamattina dai 7 dipendenti dai 3 clienti presenti all'interno della BCC di Bellocchi di Fano. Intorno alle 11.30 un uomo avvolto coperto è riuscito ad introdursi attraversando la bussola della filiale della decima strada facendo finta di soffiarsi il naso. In realtà stava nascondendo un taglierino e al momento dell'irruzione, dopo aver minacciato una coppia e una donna che si sono accasciate a terra, ha scavalcato il bancone. A quel punto è entrato in azione il secondo complice. Hanno ordinato di aprire la cassaforte temporizzata, ma erano necessari circa 20 minuti prima che il timer permettesse l'apertura. Così i malviventi hanno deciso di arruffare 20.000 euro presenti nelle casse e una volta presi sono scappati a bordo di un'auto, una Uno nera, che avevano rubato poco prima a Marotta e che è stata poi ritrovata dagli agenti in un parcheggio limitrofo alla banca. Una fuga però, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Inoltre pare che nessuno al di fuori si sia accorto di nulla, come ci racconta una testimone che in quel momento stava lavorando nella pizzeria adiacente. Sì, però eravamo dentro e non abbiamo visto niente. Ecco, non avete sentito nulla? Niente, un allarme, niente, perché anzi, quando ce l'hanno detto siamo rimasti, siamo rimasti, capito, perché da dentro, poi di sotto, capito, non abbiamo sentito niente, proprio non ci siamo accorti di niente. Non avete nemmeno visto l'auto magari sfrecciare via? No, perché capito... Avete avuto modo poi di parlare con i clienti o con i dipendenti che erano presenti all'interno? Ancora no, ancora veramente non è capitato nessuno. Le persone che erano all'interno della banca invece parlano di un accento meridionale dei due. Infatti si pensa che siano di origini pugliesi. Inoltre dalla corporatura di rapinatori, dalla loro agilità nei movimenti e dall'abbigliamento giovanile con pantaloni a cavallo basso e scarpe da ginnastica, fa supporre agli inquirenti che possono essere due ragazzi di età inferiore ai 30 anni. Proseguono dunque le indagini, ma l'assenza di telecamera sia nella zona di Bellocchi, che a Marotta di certo non agevolerà le indagini dei carabinieri.